a tu per tu per parlare di attualità politica curiosità e sport a tu per tu per saperne di più nuovo appuntamento con a tu per tu in diretta su radio mondo e rieti in vetrina anche nella puntata di oggi diamo spazio alla cultura presentando il libro di anna rita festuccia benvenuta buongiorno insieme a noi c'è anche don nicola fernando benvenuto presentiamo il libro all'ombra della grande quercia un racconto che parla di una forte amicizia anche di tutto ciò che poi nasce all'interno della vita perché la vita è costellata di tante sfumature sia belle sia brutte e all'ombra della grande quercia parla di lei e di una sua grande amica sì scusate che comunque c'è sempre l'emozione ricordando la grande amicizia che c'è stata fra me e antonella e poi purtroppo la vita è ricca anche di avvenimenti tristi e questa grande amicizia si è spezzata solamente perché lei non c'è più altrimenti sarebbe durata per sempre e quindi niente e quando è successo io l'ho accompagnata l'ho seguita nel suo percorso triste ma comunque bello perché stavamo insieme questo certamente e che dire la famiglia ha voluto mi ha chiesto essendo forse la persona che più la conoscesse profondamente di scrivere un ricordo per lei e quindi così per scherzo per scherzo in modo doloroso anche bello come valvola di sfogo cioè forse anche per metabolizzare un po il lutto anche se è stato doloroso scriverlo questo libro non avrei mai voluto scriverlo però lo meritava la sua persona la sua generosità il suo bel carattere infatti abbiamo deciso di devolvere per intero l'incasso di questo libro se cioè nessuno ha preso né io né né la famiglia che ha contribuito a stamparlo per la prima volta e di prendere una lira perché antonella era molto generosa e quindi abbiamo conosciuto padre fernando che ha fondato nello sri lanka una comunità che accoglie i bambini abbandonati e il paese sta attraversando un periodo politico tremendo e quindi c'è molto bisogno e lui è affondato questa questa casa accoglienza e dove li accoglie gli insegna anche a lavorare affinché diventino autonomi autonomi e abbiamo pensato che fosse una bella e cosa devolvere tutto a lui e quindi forse lui può spiegare meglio quello che che fa effettivamente prego ci racconti un po della sua fondazione inizio con una profonda gratitudine a tutti quanti che hanno organizzato io non direi un chance a una provvidenza e ho conosciuto bruno targusi tramite è un altro aiuto che abbiamo ricevuto subito dopo lo tsunami negli anni dove sono morti 40.000 persone in sri lanka nell'anno 2004 e dopo di che è la fondazione raffaella organizzato per noi degli aiuti in cui c'è anche bruno targusi di rieti tramite tramite il quale ho conosciuto questa realtà e lui ha suggerito che possiamo anche aiutare attraverso questo libro quello che si raccimula attraverso questo libro viene destinato ai bambini orfani io ho un orfanatrofio dove raccolgo i bambini di strada chi anche i bambini che sono stati venduti da proprio i madri i bambini che non hanno conosciuto chi è il suo suo padre i bambini proprio vulnerabili disagiati e marginati raccolgo e specialmente i bambini che non hanno mai seguito la scuola quanti bambini seguite infatti circa 400 bambini ce l'abbiamo 400 alcuni di loro non sono mai stati a scuola quindi facciamo anche una piccola scuola dove anche i bambini di 14 16 giovani e anche 8 10 anni e quindi seguiamo loro da da zero bisogna anche addirittura ad un giovanotto di 14 anni iniziamo con abc certo quindi è un grande servizio però con tanta fatica e sfida ma ben volentieri facciamo questo servizio e poi abbiamo anche altri non residenziali che stanno presso i loro custodi diciamo madre senza padre o padre senza madre ambedue non sono quindi presso i genitori di loro no i nonni prendono cura di questi quindi aiutiamo a avere le esigenze anche per mangiare e dar da mangiare soprattutto lo studio prendiamo l'incarico di dello studio soprattutto è fondamentale e si anna rita festuccia stavo vedendo la copertina ci racconti perché quella copertina e il questo titolo allora questo titolo e la puoi mostrare davanti alla telecamera così facciamo vedere a tutti eccola qui all'ombra della grande quercia da dove nasce questa nasce questa è questo è un disegno che ho realizzato io su una foto del casale di antonella che sta nella pianura reatina dove c'è questa grande quercia e noi spesso quando sia per pranzi e cene per stare in compagnia ma anche quando soprattutto avevamo dei momenti un po' tristi qualche problema andavamo sempre lì la macchina sembrava che partisse da sola e raggiungesse quel posto e sembrava e l'ho scritto anche nel libro che sotto quella quercia potevi dire tutto come in un confessionale e quella quercia fosse stata come una cassaforte che non ti avrebbe tradito e quindi ci abbiamo passato nei momenti anche anche piangendo diciamo no perché l'amicizia vera è raccontarsi tutto è esternare le proprie sensazioni le proprie emozioni quindi ci esce anche qualche lacrima e la brezza del dei rami sulla quercia ce le asciugava ogni tanto ecco perché questa foto questa e l'ho voluta io questa per forza questa prima di leggere un paragrafo del suo libro chi era antonella antonella è una persona era una persona che forse neanche da questo da quello che ho scritto può emergere la bontà d'animo la bellezza dentro e fuori ma anche soprattutto dentro una persona generosa che amava le persone nonostante lei rivestisse nella società anche un ruolo importante perché il marito è un grande professionista però lei amava le persone semplici come me perché io non non è che rivesta ruoli importanti lei la sua casa era aperta non importava se una persona rivestisse un ruolo importante nella società nella politica no le persone se l'onestà non albergava nei loro cuori a casa di antonella non era bene non si entrava ecco questo era il bello di antonella ci divertivamo con le cose semplici con i giochi avevamo i bambini che giocava e noi giocavamo con loro con le cose più stupide più semplici però ci divertivamo un mondo quanto tempo ha impiegato scrivere questo libro ma non molto perché diciamo questo non ha la pretesa di essere un libro è un racconto di avvenimenti personali non ha la pretesa di essere un libro non ho impiegato tanto perché non ho dovuto inventare o faticare ho scritto quello che è stato e all'inizio comincia con diciamo un po la storia di quel quartiere di madonna del cuore che dove il padre di antonella lavorava poi c'è andata la mamma poi ci ha vissuto lei e dove è nata la nostra amicizia in quel quartiere quindi però non ho impiegato tanto ci legge uno stralcio qualche riga a proposito del casale in quel periodo le visite al casale si ripetevano con una frequenza a volte anche giornaliera o per portarci le piantine o per raccogliere qualche ortaggio o per andare parlare della sua ristrutturazione e poi ci si sedeva sempre sotto la grande quercia immaginavamo una grande altalena pendere dal ramo più grande dove l'una vi si sarebbe seduta e l'altra l'avrebbe spinta sempre più in alto fino a farla urlare per la parura loro si sarebbero divertite un mondo così come due bambine perché in fondo lo erano rimaste la loro infanzia in qualche modo era stata come bloccata dai venti dolorosi cristallizzata come una prova d'accusa in un incidente probatorio loro invece avrebbero voluto legarla a un palloncino che non aspetta altro che liberarsi dal nodo e volare libero nel cielo e non ridiscendere e risvegliare tristi ricordi avevano lottato una vita perché ciò accadesse ora con la maturità di un'età adulta sembrava che i lutti e gli abbandoni fossero stati metabolizzati e la liberazione fosse veramente arrivata tutti quegli avvenimenti dolorosi che le avevano fatte soffrire da piccole cominciavano a ricoprirsi di una patina nebulosa che a volte miracolosamente non permetteva loro di rituffarci se a capofitto e sprofondare nello sgomento ecco forse adesso erano libere quando questo elaborato questo libro è venuto alla luce la famiglia come l'ha accolto? la famiglia di Antonella? la famiglia di Antonella sono loro che mi hanno chiesto il marito in primis mi ha chiesto di scrivere il libro poi però vederlo realizzato è tutt'altra cosa infatti i ragazzi lo hanno letto da poco tempo perché loro stanno fuori all'onda e mi hanno mandato dei messaggi stupendi Marta ha detto sto piangendo ovviamente Andrea mi ha detto sono contento perché in questo libro ho rivissuto di mamma anche i momenti felici che ha avuto perché non è fatto solo di tristezze non è fatto solo di racconti tristi quindi sono stati contentissimi loro chi lo volesse acquistare quindi contribuire alle donazioni alla fondazione di Mitu dello Sri Lanka o si può rivolgere ad Anarita Festuccia o può commentare questa intervista che poi vi metteremo chiaramente in contatto con l'autrice ma poi a breve verrà trovato anche nella libreria di Rieti dove si potrà acquistare speriamo che si possa fare certo che sì è un contributo che tutti dobbiamo dare non solo perché sì perché la causa lui è qui con noi non è solo un ricordo di una persona non c'è più ma anche un aiuto a tanti bambini è anche un omaggio a lei perché lo avrebbe voluto fare perché lei ospitava dagli animaletti lei non rifiutava a nessuno il suo aiuto infatti attraverso le pagine di Anna Rita purtroppo non ho conosciuto Antonella di persona però attraverso le pagine bellissime che lei ha scritto quindi ho conosciuto una persona di bontà e di generosità e di amicizia e la felicità quindi forse se fosse stata viva avrebbe anche desiderato destinare questo fondo per aiutare i bambini più poveri, disagiati, vulnerabili quindi sono al nome di tutti quanti i bambini e tutti i beneficiari sono qui anche per ringraziare lei e Costantino, il marito suo e i figli e tutti quanti che hanno contribuito anche per realizzare questo libro che anche per destinare quello che hanno rassimilato per devolverlo anche per noi, per le spese dei bambini le ultime due domande come la signora Anna Rita Festucci ha conosciuto il don, il padre e come ha conosciuto Antonella? Dunque, Fernando l'ho conosciuto perché con Bruno e Costantino aveva contattato Bruno per mettere su questo libro perché ci teneva tanto, si è dato da fare prima aveva incaricato una giornalista che glielo scrivesse, poi non è andato niente in porto e mi disse guarda lo devi fare tu anche perché so cose effettivamente scrivere un libro raccontando una persona se non la conosci non lo puoi fare è un conto, un libro di fantasia io ne sto scrivendo un altro di fantasia tranquilla ma questo aveva dei riferimenti cronologici, storici diciamo nella storia di Antonella quindi se non la conosci bene non puoi farlo e quindi con Bruno abbiamo e Fernando l'abbiamo conosciuto con Bruno perché all'inizio avevamo un altro progetto avevamo un progetto di fare una cosa un libro molto particolare che poi avrebbero dovuto realizzare da loro nello Sri Lanka perché dove sta lui, lui nella sua fondazione insegna anche a lavorare, a cucina in macchina a queste mamme però poi abbiamo capito che era impossibile perché fare un versamento era più la spesa che l'impresa non avrebbe reso e quindi si è optato per fare un libro io ho fatto una presentazione al mio paese e chiunque l'ha letto questo libro la prima cosa che mi ha detto mi ha detto quanto avrei voluta conoscerla Antonella veramente chiunque l'ha letto mi hanno mandato dei messaggi meravigliosi perché ne ho vendute parecchie di copie ho fatto la presentazione al mio paese quindi qual è il paese diciamo? Ornaro Basso e è stata una bella una bella è venuta il sindaco cioè è stato bellissimo molto emozionante perché avevamo Costantino ovviamente i parenti di Antonella certo e quindi è stato molto molto emozionante e come hai conosciuto Antonella? come ha conosciuto Antonella? Antonella l'ho conosciuta e quando? l'ho conosciuta 35 anni fa 34 e perché i nostri bambini andavano a scuola insieme e io penso che l'amicizia nelle amicizie succedano i colpi di fulmine come sì è un'altra forma di amore no? per me forse è la più grande forma di amore perché non sei costretto da vincoli cioè il matrimonio comunque è un vincolo che anche se a volte però non è che la mattina ti svegli invece l'amicizia è un rinnovarsi in continuazione il voler stare insieme cioè è una cosa bellissima infatti quando ho fatto la presentazione io ho detto io vi auguro a tutti di avere un'amica come Antonella perché se no la vita è più meno bella, meno ricca perché io ho vissuto bene questa vita con Antonella e la mia vita è proprio scandita con lei e un senza di lei e è molto diverso siamo in chiusura ci legge qualche altra riga del suo elaborato? posso leggere la fine? come vuole la parte che più le piace non è facile Antonella aveva una forza e un coraggio straordinario e mai parlava dei suoi disturbi tanto che voglio organizzare una grande festa per il compleanno di Marta lei stessa preparò la torta Sacher che era una delle sue tante specialità lo festeggiarono al casale una lunga tavolata sotto la grande quercia e poi un susseguirsi di giorni tristi con accanto i suoi cari e le amiche di sempre fino all'epilogo finale in un tristissimo giorno di settembre basta non voglio leggere io ringrazio Anna Rita Festuccia di essere stata con noi grazie a voi e di aver aperto poi il suo cuore nel ricordo della sua cara amica Antonella ringraziamo Don Nicola Fernando grazie anche a voi di averci dato l'opportunità di esprimere le nostre emozioni facciamo rivedere ancora una volta la copertina di All'ombra della grande quercia Anna Rita Festuccia vi ricordo che questo libro lo potete richiedere o commentando la nostra intervista o contattando direttamente l'autrice Anna Rita Festuccia oppure rivolgendosi alla libreria di Rieti nel quale si troverà nel più breve tempo possibile il ricavato di questo libro andrà in beneficenza vi ricordo anche che questa puntata la potrete rivedere sui nostri canali YouTube e sulle nostre pagine Facebook Rieti in vetrina e Radio Mondo con A Tu Per Tu l'appuntamento e alle prossime interviste grazie grazie A Tu Per Tu per parlare di attualità politica curiosità e sport A Tu Per Tu per saperne di più nina nanna amore mio che ti ha che ti ha